Senti Marti, in te sei stato un po' il jolly, la mascotte della squadra, sicuramente le tue appa, sicuramente. L'esperienza in B per un'età comunque giovane come la tua e con una squadra, con un gruppo di compagni, così penso sia stata forse la più bella esperienza che una persona della tua età, giovanissima, peraltro possa sognare. Sì, fino ad ora è stato il livello più alto in cui ho giocato quindi è una bella esperienza, ho imparato tanto, ho visto anche come, non so, fisicamente e mentalmente come sono fatti i giocatori professionisti e ho imparato anche cosa devo io, diciamo, cioè di allenarmi in quello che mi manca e basta. Senti, avere un papà che mi è sempre in trasferta, oltre che tutto è partito in casa, com'è? Mio papà, sì, si è sempre... A casa cosa ti dice? Perché se hai un conto di leggere qualcosa in giornale, hai un conto di vedere le partite tutte? Una roba, sì, mio papà c'è sempre a dire o di me è un po' così, commenta ogni roba di ogni giocatore, mi sono un po' stufo di ascoltarlo. Possiamo andare a gli dare l'esidio? Sì, forse, vediamo. Grazie.